Penso che ieri già ci sia stato un chiarimento tra il governo e l'Anci perché spetterà i sindaci individuare eventuali zone da chiudere, strade, piazze se sono a rischio o sembramenti e spetterà al Perfetti e alle Forze dell'Ordine fare i controlli. I sindaci non sono sceriffi, è giusto che vadano loro ad individuare le aree più a rischio però non hanno un numero di polizia municipale sufficiente per gestire chiusure di spazi pubblici. Quindi il tema dei controlli deve essere in mano ai Prefetti e alle Forze dell'Ordine. Questo è stato chiarito giovedì con il Prefetto con il quale c'è un'ottima collaborazione faremo il punto sulla nostra città e sulle città della provincia di Pesaro.